Cari lettori di Trinacri News, ci troviamo al Teatro Verdura in occasione del concerto Latin Explosion, spettacolo all'insegno di samba, calypso e mambo in compagnia dell'orchestra jazz siciliana, composta dai professori del The Brass Group. Approfittiamo di questa occasione per parlare col presidente della fondazione, il maestro Garcia, per poi alcune domande. Maestro, sappiamo che il Brass sta subendo numerosi tagli dalla regione, tanto ad endurvi a protestare più volte, con il sostegno anche di Roberta Gambarini, la prestigiosa vocalist torinese. I lettori si chiedono se la vostra protesta continuerà ancora e in che modo e soprattutto cosa avete ottenuto? Ancora non abbiamo ottenuto nulla, però oggi abbiamo incontrato il sindaco di Palermo e l'assessore Francesco Giambrone ed è stato un incontro proficuo perché stanno valutando l'opportunità di partecipare alla fondazione come amministrazione comunale, come soci, per concedere in comodato d'uso il complesso monumentale dello spasimo che questo già comunque assicurerebbe un tetto alle attività didattiche, al ridotto dello spasimo, al jazz club e ai giardini sopra le mura. Non dimentichiamo che fino a qualche tempo fa il Comune esigeva un'indennità di occupazione come se fossimo degli abusivi e dei canoni di locazione che il Brass con tutti i tagli subiti non potrebbe sostenere. Già questo è un segnale di un impegno e di una considerazione alta da parte dell'amministrazione comunale e questo già ci fa sperare. Nel frattempo andiamo incontro alle elezioni regionali e mi impongo di credere che la prossima assemblea e il nuovo governo valutino appunto la fondazione del Brass Group nella giusta considerazione. Parlando dell'attività, quali sono i prossimi progetti che ha in cantiere il Brass Group? Ma intanto sono già aperte le iscrizioni alla scuola di musica e già dal 3 settembre, da ieri, sono aperte le iscrizioni e quindi dal 1 ottobre inizieranno i corsi della scuola di musica e certamente in autunno riprenderà l'attività al ridotto dello spasimo, l'attività concertistica appunto perché con l'amministrazione comunale si è trovata questa intesa che comunque assicurerà l'ospitalità allo spasimo e il prossimo autunno in qualsiasi modo io mi impegno ad aprire il Teatro Santa Cecilia a costo che lo apriamo e lo terremo aperto. In ogni caso, in qualche modo lo terremo aperto e in qualche modo riusciremo a fare attività. Questo è un impegno che prendo con la città. Grazie mille maestro e gli auguriamo buon lavoro. Grazie a voi.